Io sono Antonello Rizzo, romano, italiano, 34 anni. Sono un tecnologo, lavoro con il gruppo Helium 3 dell'Istituto L'Eau Langevin. Noi forniamo dei filtri che sono utili per analizzare sia il fascio di neutroni che dei campioni. Io trovo che l'ILL è eccezionale. Tutti i colleghi, tutte le persone che ho incontrato sono persone che stimolano, molto stimolanti. Anche l'ambiente internazionale, sul sito scientifico sono molte persone. Anche il fatto che la città è piccola ti permette di creare abbastanza velocemente un gruppo di amici. Ancora sono legato alla cucina italiana, quindi spesso mi capita di cucinare per gli amici. Allora l'italiano cucina la pasta così. E un po' mi sono anche affinato a fare lo chef, quindi mi piace il fine settimana anche passare la mattina al mercato, scegliere le primizie, il formaggio, la pasta. Ed è sicuramente un paese che ti dà molti servizi e possibilità e dove puoi realizzare le tue ambizioni. Questa è l'impressione che ho avuto fino adesso, che con l'impegno qui si possa raggiungere degli obiettivi che uno si propone. Questa è l'impressione che ho avuto fino adesso, che con l'impegno qui si possa raggiungere degli obiettivi che uno si possa raggiungere delle cose.